ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato a voi che state guardando episodio dei vostri video ossia delle registrazioni che voi chiaramente effettuate in orizzontale mi raccomando e poi mi mandate cioè le vostre collezioni no il vostro percorso all'interno di questo simpatico hobby e come interpretate la passione per gli orologi ecco io mi piace definire passione per gli orologi più che per l'orologeria che diventa una cosa un pochino più sofisticata non è da tutti nemmeno da me cioè io cerco di documentarmi di rimanere al passo coi tempi di imparare tutto ma l'orologeria intesa come meccanica come storia come tutto quello è complessa ci vuole tempo tempo anni anni di studio quindi è più facile più semplice essere appassionati di orologi e poi da lì step by step come diceva non so chi si va avanti no ora come partecipare lo sapete quindi non sto a dirlo guardate qua sotto cosa c'è scritto vi voglio ricordare invece che domenica 12 maggio ci sarà il quinto watch meeting ossia il quinto raduno del canale dove potremo incontrarci tutti assieme di fronte alla gioielleria pasquale domenici a via legge nella zona pedonale antistante ci incontriamo facciamo l'arduno del canale poi possiamo entrare provare gli orologi ci saranno ospiti di vario tipo no qualche rappresentante di casa orologiera qualche personaggio un pochino così rappresentativo se non sbaglio mi sembra umberto pelizzari poi non vorrei sbagliarmi tutto da confermare e poi ci sarà anche un gadget per chi partecipa un bel gadget un regalino no che fa sempre comodo portarsi la casa va bene dai vi aspetto lì domenica 12 maggio alle ore 15 ok detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpaticissimo oris diver 65 acciaio e bronzo orologio che mi accompagna ormai da qualche anno e che ha preso la sua bella patina nel bronzo orologio preciso praticamente come un orologio congolese no nel senso che scarta di un 10 12 secondi al giorno ma va bene così non è che pretendo no l'impretendibile ogni tanto basta che fermi la corona estrai la corona si ferma la lancetta dei secondi aspetti quei 12 secondi riattacchi e lui è sincronizzato è importante che vada avanti è più semplice se va avanti basta fermare la lancetta dei secondi e attendere che il tempo trascorra poi dopo track riparti e siamo a posto dai bando di discorsi guardiamo i video la barra spazziatrice qua è pronta per essere abusata e noi la abusiamo subito con l'indice con l'indice sono dario da napoli e oggi avrò il piacere di presentarti questa mia modestissima collezione di orologi davide devo ringraziare e ti devo anche un po' a cazziare voglio perché per colpa tua è nata questa passione e ho cominciato a spendere i dindini vabbè cominciamo subito con e porta lì nella tomba i dindini se li spendi vuol dire che ce li hai no e se se ce li hai e li spendi vuol dire che li spendi per qualcosa che ti dà piacere no che ti dà soddisfazione quindi non mi scassare gli scatoloni a me e pensa ai tuoi soldini da spendere è quello che non è un orologio ma è un garmin io sono un runner e utilizzo percorrere e ogni tanto ci guardo l'ora chi appartiamo avanti ti presento invece l'orologio lo swatch di mia figlia soglia che è una appassionata anche lei di orologi bello però anche lei finalmente con questa passione questo il suo primo orologetto eccola qua brava sofia eh fiera di indossare o no sofia ok davide questo è lo swatch quarzetto e andiamo avanti fierissima ti presento l'orologio con cui diciamo sono cresciuto il casio f91 v mitico mitico orologio al quarzo che ho indossato per tanti anni che adesso indossa fieramente mia figlia con un altro quarzon eccolo qui il casio g shock questo è l'orologio che viene utilizzato per le battaglie ma quali battaglie facciamo noi chi lo sape vabbè dicono tutti così e lo voglio dire pure io bravo partiamo con gli orologi automatici david allora ti presento il mio primo acquisto di un orologio meccanico automatico questo è un orient un orient con cassa dorata movimento di manifattura orient il fondello a vista è carino io ci ho montato sullevato il suo cinturino di pelle e ci ho messo questo nonato perché mi piaceva così c'entra niente mi piaceva oggi mi piace un po' di meno un po' troppo obbligato nel vestirsi però va bene va bene così va bene così da questo invece è il primo acquisto dovuto a te davide vedi questo l'ho comprato in piena pandemia l'orient ray 2 bellissimo un dial fantastico questo blu profondo e veramente bellissimo e ci ho montato questo cinturino nato e mi piace tanto dato che tiene benissimo il tempo un po questo vetro plexi che non è plexi si graffia parecchio però va bene così mi piace andiamo non è plexi quello è vetro minerale avanti ti presento invece questo vostok anfibia ma perché un vostok anfibia neptun che ha un quadrante molto bello funzione gmt c'è l'unico problema davide di questo orologio come tu ben sai guarda qua cosa è successo la ruggine ecco fatto della corona pieno di ruggine questi russi spia spiazze spiazze vedere queste cose no è non è la prima volta che vediamo degli orologi russi con con la corona il canotto della corona diciamo arrugginito come nei commenti sotto gli altri video qualche appassionato ha spiegato il motivo per cui c'è più che spiegato ha detto che al momento hanno gli orologi russi hanno il vostro hanno cambiato il tipo di canotto e adesso non succede più ora io non so di quando è questo orologio però non è un bel vedere no ce l'ho avuto anch'io il vostro anfibia però per esempio non l'ho mai portato al mare no ecco il solito discorso di noi appassionati che ci compriamo i diver poi magari non ce lo porti mai per quello che sarà l'ideale sarebbe utilizzarli proprio per quello per cui sono nati così poi dopo li porti al limite tra virgolette vedi vedi se un orologio gli entra l'acqua 300 metri dichiarato gli entra l'acqua potrebbe essere un difetto però intanto no oppure fa la ruggine oppure gli va la salsedine sotto la ghiera e incomincia a non ruotare più e per questo che vanno sempre sciacquati sotto l'acqua dolce no gli orologi vanno utilizzati per portarli poi al suo limite e poi capire di che basta sono fatti ora qua mi dispiace proprio anche brutto a vedersi è brutto 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 e quel canotto lì vabbè nare cattiveria e fanno pure la ruggine però orologio che quando lo indosso mi dà soddisfazione bravo bravo avanti primo acquisto un po più importante eccolo qui questo emilton khaki mechanical ce l'avevo anch'io office 44 mm cassa ho levato il suo cinturino originale dato e ci ho montato questo zulu nato come vogliamo chiamare perché mi piace di più tornarsi indietro probabilmente prendere la versione da 38 mm e non questa qui perché adesso sul mio posto da 16 e mezzo questo 44 mm è un po padellone però però un par di scatoloni e questo orologio qua e deve essere grande al polso hai capito il khaki fil da 38 mm è un'altra roba questo qua è deve essere grande lo vedi anche i numeri come sono ben visibili grandi la secondina ore 9 io ci avevo messo anche un bond come cinturino che lo faceva ancora più grande deve essere grande cioè questo qua lo devi indossare quando hai voglia di avere qualcosa di vistoso al polso che ricorda l'ambiente militare è capito e non non lo devi prendere come un orologio un dress watch o un orologio compatto da indossare con soddisfazione ogni orologio va preso per quello che è va utilizzato in un determinato ambito ci sono comunque affezionato me lo tengo e va bene così emilton poi una sicurezza anche lui tiene molto bene il tempo certo andiamo avanti e passiamo alla un attimo ai vintage guardiamo da questo vintage questo è una casa francese si chiama missile questo l'ho preso un mercatino è un carica manuale 35 mm mamma mia realtà un 34 questa casa francese che proprio produceva in svizzera negli anni 70 poi scomparsa questo quadrante molto bello guarda qui sembra proprio di vedere questo verde acqua mi piace moltissimo e anche questa zigrinatura sulla cassa molto particolare molto particolare vado avanti davide senza perdere tempo continuiamo con i vintage come tutti anche io un giorno apro il cassetto del nonno e trovo non è vero non ne ho aperto nessun cassetto del nonno questo orologio qui questo è uno zainetto e spada questo era del nonno di mia moglie che le ha lasciate a lei e mia moglie non essendo appassionato ovviamente le ha dati a me io li ho fatti restaurare le fatti revisionare questo qui è placato in oro è un carica è un automatico e io ci ho messo questo centrino con la chiusura deployant deployant e niente mi piace tanto non lo metto spesso ma quando lo metto lo metto con soddisfazione questo invece è uno dei miei preferiti questo è uno zenith stellina veramente bellissimo guardate patina c'è questo quadrante la fioritura stupendo carica manuale piccoli secondi ore 6 questo è un orologio che veramente è molto bello molto bello benissimo l'unico piccolo problema difetto è quella corona che purtroppo non è la sua originale perché quando l'ho fatto restaurare era rotta non c'era la colonna non è stata trova non ho trovato la corona originale però ci sono molto affezionato mi piace tantissimo questo orologio veramente bello che ne pensi davide fammi sapere poi dopo alla fine di questo orologio te lo faccio sapere subito se è bello mi piace sembra anche abbastanza oversize grande come diametro non mi sembra che ci sia nulla di fuori posto poi se c'è è veramente la corona quella lì con quel logo lì e va dal 73 al 2000 quindi è proprio è proprio fuori fuori epoca non è coeva non è coeva ora che non si sia trovata una corona zenith di prima del 73 mi sembra una una cosa strana con un minimo di sforzo la si trova e la si mette anche perché non c'entra niente è proprio veramente un colore acciaio differente no oltre al luogo differente va bene comunque vero questo orologio mi piace sarebbe bello anche fare la collezione no io faccio la collezione di longin vintage no sarebbero fare anche la collezione di zenith vintage che hanno altrettanto pregio è proprio heritage e andiamo avanti adesso gli ultimi automatici cosa allora devi sapere che io qualche anno fa ho perso a mare ammone di 040 tra le onde del mare la calabria e quindi mi sono appena auto regalato questo n i 00 40 anzi 00 85 86 bellissimo io questo diver di citizen lo adoro lo trovo veramente bellissimo ci ho montato questo cinturino di silicone con le impunture rosse che credo ci sia proprio la morte sua guarda qua va benissimo io lo trovo un orologetto di poche centinaia di euro ma veramente lo trovo bellissimo bellissimo trovo veramente bellissimo carino si fa anche molto bene il tempo bene veste benissimo al polso con tecnico e qualcosa di eccezionale questo orologio ripeto per poche centinaia di euro è il top top andiamo avanti con quello che io ritengo il diver per eccezione però eccolo l'eccezione il seiko samurai questo è un carro armato davide questo è un questo veramente mi soddisfa tantissimo quando lo indosso veramente un carro armato mi piace ci ho fatto già tre stati fondello serrato con questa bellissima serigrafia sul retro e niente questo quadrante ipnotico in alcuni momenti più bellissimo lo fa la riuscire veramente con molto piacere e infine l'ultimo ti presento l'ultimo arrivato di casa citizen il citizen suioso bravo questo è stato l'ultimo acquisto il mio regalo di natale il mio auto regalo di natale questo l'ho trovato veramente bellissimo ero andato in gioielleria per prendere il tissu prx ho visto questo erano vicini nella vetrina ti dico la verità al polso questo fa un altro effetto anche se è più economico del tissu ti assicuro almeno per gusto mio che sul mio polso questo orologio fa una porca porca figura bellissimo mi piace tanto brava citizen con questo bracciale integrato che riprende un po le linee gentiane veramente ha fatto un best buy per quanto mi riguarda bravo da infine ancora davide ti chiedo di questo qui nasce la mia domanda ti presento l'emilton mib 2 questo è un quarzon so che sicuramente adesso tu dirai una una soffera però a me questo è piaciuto molto è un orologetto che è molto iconico viene dal film man in black guarda anche sul fondello si vede la scritta man in black 2 meno male siamo contento il 12 11 30 meno male emilton cosa ne pensi davide di questo orologio e cosa ne pensi di questa mia modesta collezione e un'ultima domanda un'ultima domanda sono indeciso se acquistare come prossimo orologio salire un poco di livello adesso possiamo farlo e credo che è arrivato anche il momento se prendere un orris diver 65 o uno zodiac sea wolf sono fasce di prezzo forse leggermente differenti però mi piacciono entrambi e sono molto indeciso su quale prendere davide io ti mando un grosso abbraccio un salutone continua così rock and love colpo all'orologio in terra boom boom ma guarda sto qua va bene dai quel quel emilton lì non mi piace cosa vuoi che ti dico no capisco che possa avere un senso no si anche il psr ha un senso l'altro digitale no oppure gli ultimi che hanno fatto per il film dune hanno un senso cioè un senso collezionistico ora per esempio un orologio come il tuo così digitale questo emilton qua lo vedrei bene come è già successo c'è stato un amico del canale che ha presentato una collezione di orologi digitali degli anni 70 no di varie marchi c'era anche omega c'era emilton il seiko può avere un senso no fare una collezione così li posso anche ammirare tutti insieme messi insieme così uno così una tantum per me non ha senso io non riesco a disperdere energie quando dico energie intendo dire energie psicofisiche di non studiare nel capire nel cercare e anche energie monetarie spendere in un unico orologio così digitale da mettere nella mia collezione no poi ognuno fa le proprie scelte se te pensi che questo ti dia soddisfazione e allora fai bene cioè a me non mi piace non mi piace non lo considero poi poi mi chiedevi della tua collezione si tutti gli orologi che abbiamo già visto in passato che sono diciamo hai scelto un pochino no le i best buy come suol dire i best seller quelli più venduti di ogni marchietto si quando poi mi chiedi tra lo zodiac e il diver 65 io personalmente ti dico diver 65 a me piace il diver 65 piace in qualsiasi configurazione io visto che te hai tutti i diver no sono anche abbastanza di presenza 42 no prendi quello da 40 perché c'è anche da 38 e anche da 42 c'è da 38 quello da 38 magari un po' piccolino valuta bene quello da 40 è la misura perfetta è la misura perfetta ora io non dico di prenderlo anzi sto qua è fuori produzione non dico di prenderlo quello tutto bronzo prendi uno di quelli più sobri possibile che insomma che non ti stufa nel tempo comunque la mia scelta va sull'orist type 65 poi fai un po' te devo decidere tutto io ciao davide ciao sono gianmarco gianmarco e ti mando questo video da san minato san minato pisa ti faccio vedere la mia collezione di orologi ma va questo citizen purtroppo è un 42 mm per le dimensioni perché comunque però il design della cassa e in generale tutta l'estetica del quadrante mi piacciono veramente tanto e nonostante i suoi 42 mm tutto quadrante comunque il quadrante è scuro e le anze sono abbastanza raccolte questo fa sì che si mascherino un po' le dimensioni poi abbiamo sempre in ordine di acquisto questo qua quarzo che è l'unico quarzo che ti farò vedere oggi perché oggettivamente è l'unico quarzo veramente degno di nota perché è un suacqueo 200 metri ha la corona a vite e lo utilizzo per andare al mare per divertirmi e portare un orologio che mi dia l'utilità di vedere l'ora senza alcun pensiero oltretutto lo utilizzo anche per rimettere gli altri orologi beh va bene un bel quarzetto da 50 euro come dici te che fa il suo dovere no io però sinceramente fatico fatico a capire a comprendere quando uno dice vado al mare mi compro un orologio da 50 euro al quarzo cavolo ma li vogliamo usare cioè ma io perché devo avere tanti orologi no che mi danno soddisfazione che mi piace indossare che mi bevono nel guardarli nel nel e poi per il 50 per cento della giornata non lo indosso perché indosso uno che non che non mi piace che non mi piace che non che non ha lo stesso pregio ce l'ho quando ce l'ho io al mare ci vado il diver 65 vado con il diver 65 l'omega 6 master 300 vado con l'omega 6 master 300 citizen pro master vado con il citizen pro master long jean skin diver e chi più ne ha più ne metta me li metto e ci vado volentieri perché e sono quelli momenti nei quali puoi puoi ricordarti un giorno di aver indossato l'orologio in certe situazioni ah sì quell'estate l'ho fatta c'era questo orologio quell'estate l'ho fatta con il caso al quarzo e vabbè ma sparati allora cioè capito cosa voglio dire bisogna anche dargli dargli modo di vivere con noi agli orologi perché se te non gli dai modo di salire sul tuo polso e di passare una giornata in un certo posto perché paura di rovinarlo e allora cosa l'hai preso a fare tienilo in cassetta di sicurezza nella cassaforte nella sua scatola e poi ogni tanto lo tiri fuori lo guardi lo rimetti lì e io queste cose non le concepisco però te fai come ti pare cioè fai tutta l'estate col caso al quarzo va bene poi magari c'è dei begli orologi là dietro nascosti per ordine di acquisto abbiamo il mio primo Seiko è un Seiko 5 Sports in questa edizione particolare che non è un'edizione limitata però è una specie di edizione speciale dedicata ispirata alla linea Sonar degli anni passati di Seiko che ha questo quadrante che è trasparente e ha questa finitura sembra un po' un vinile in realtà questo orologio guardando bene la finitura del quadrante e praticamente fa intravedere i dischi data e giorno che sono sotto secondo me gli dà veramente un'estetica particolare che me l'ha fatto assolutamente desiderare per cui sono molto contento questo qua che è il mio tisso PRX in una configurazione abbastanza vista ovvero per le dimensioni dato il fatto che è da 40 mm però con il quadrante verde che qua si riesce ad apprezzare bene sì è bello che non è il colore più comune in cui gli utenti quindi gli amici del canale acquistano il PRX secondo me è la colorazione più bella veramente gli dona veramente un sacco poi con questa finitura tapisserie rende veramente tantissimo soprattutto al sole e la cosa bella è che è abbinabilissimo con qualunque capo di vestiario con qualunque accessorio o altro accessorio si voglia acquistare proprio perché il verde è molto scuro e sembra quasi nero veramente tanta roba ora in base a questa tua no vostra perché voi decidete di indossare l'orologio in base al capo d'abbigliamento allora io cosa dovrei indossare? sempre orologi a quadretti metto di orologi a quadretti così fanno pandan con la camicia ma io non sto a vedere queste cose qua io ho t-shirt orologio qualsiasi orologio anche un dress watch non ci interessa sei te sei te la persona che deve fare l'orologio e non l'orologio che fa la persona quindi contentissimo di averlo in ordine di acquisto ti presento anche il mio prossimo diver dell'estate che in realtà porto anche adesso in ufficio sempre e fa la sua porca figura almeno ai miei occhi il citizen pro master full loom con questo cinturino che non è il suo originale perché l'avevo comprato con il cinturino in gomma ma detto proprio fra noi faceva veramente schifo durissimo mi sono risparmiato i soldi del bracciale che mi avrebbe comunque fatto schifo e l'ho abbinato a questo cinturino preso su amazon gli ho tolto le spring bar a sgancio rapido è in gomma che non è un silicone però è una gomma a cui non si appiccicano i pelucchi appiccicano è veramente comodo leggerissimo ultra traspirante bello un bello orologio è un veramente particolare perché poi è una colorazione comunque vista tra i pro master ma in generale nel mercato degli orologi nel mondo dell'orologeria non è vista non è molto vista abbiamo questo qua che è uno zenith defy che avevo portato anche al raduno del canale al quarto watch meeting grande è un vintage degli anni 70 e monta il calibro 25.62 pc pc la cosa bella è veramente la finitura di questo quadrante è un rosso degradé che va verso l'interno molto più rosso degradé verso l'esterno diventa praticamente nero degradé quello che possiamo definire un reo in realtà non è un reo è la fine del quadrante ok e questi indici che sono veramente in stile anni 70 puliamo un attimo il vetro vai secondo me gli dona veramente un sacco un sacco tutto completamente originale vabbè fatta eccezione ovviamente per il bracciale che non è il suo perché è andato è andato perso durante gli anni questo ce l'aveva ce l'aveva mio zio abbiamo abbiamo trovato chi ce l'ha poi alla fine sistemato dato una lucidata ha cambiato il vetro mantenendo comunque il suo originale che te lo faccio vedere eccolo qua tutto bello graffiato questo è il suo vetro originale e chi ha fatto la revisione al calibro e poi mi è stato lasciato anche se fortunatamente la persona che me l'ha lasciato c'è sempre però me l'ha gentilmente donato io ho gentilmente accettato veramente tanta roba 28.800 alternanze in ora con un quadrante che dire che è tridimensionale è dire poco molto speciale caratteristico come si dice poi ti presento quello che è l'acquisto di oggi sì perché oggi sono stato a Viareggio da gli amici di Pasquale e Domenici e mi sono regalato questo bello Seiko SSK023 anche detto 5 Sports Field GMT bello bello perché viene dalla stessa utilizza la stessa cassa del Seiko 5 Sports Field detto Field ma ha questa lunetta praticamente in acciaio completamente spazzolata diciamo con questa finitura radiale con i numeri incisi e riempiti praticamente questo qua secondo me è veramente un gran bello orologio per il prezzo che per il prezzo si guarda tutta la spiegazione della lunetta che praticamente è identica sia in lavorazione che in concetto a quella del Rolex Explorer 2 no satinata radialmente con i numeri 24 ore riempiti di pigmento con questo non voglio dire che è una copia dell'Explorer 2 semplicemente che la ghiera è simile se non identica proprio per il resto è completamente diverso e questo qua è uno di quegli orologi che secondo me è un po' sottovalutato nel senso che non li ho visti spesso qua sul canale con gli amici che li mostrano perché forse costa un pochino per essere un Seiko 5 costa un pochino più degli altri perché è un GMT però tra l'altro c'è anche la funzione GMT che si legge veramente bene con quella sferona lì proprio in stile Seiko giapponese a me piace questo orologio capisco perché non se ne vedono tanti che costa la dimensione è 39,4 mm di diametro cassa e ha un lag to lag di 47,9 se non sbaglio il passo del cinturino è da 20 mm e monta il calibro 4R34 anche detto NH34 del calibro uscito circa un annetto fa un anno e mezzo fa sulla fascia economica dei GMT e ovviamente la cosa che mi piace di più è la forma della cassa perché la forma della cassa e le finiture della cassa è completamente spazzolata il vetro che è leggermente bombato e mi piace anche un sacco la forma della corona che è comunque abbastanza grande c'ha una presa molto salda per la regolazione del movimento e per la carica manuale e in più per questa cifra che costa sono 460 euro di listino in più mi è stato fatto un buono sconto dalla gioielleria praticamente si ottiene anche la complicazione di GMT quindi è un con una complicazione di tipo office quindi si muove la sfera GMT si muove indipendentemente e va utilizzata come secondo come secondo fuso orario però è veramente su questa fascia di prezzo è impossibile soprattutto a marchio 6 che è impossibile di ottenere di più veramente veramente un bello orologio di cui sono super soddisfatto beh detto questo io direi che ho detto tutto io ti saluto e ti auguro un buon proseguimento grazie della tua avventura qua su youtube non vedo l'ora di vedere il prossimo video ciao Davide ciao love 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 sei stato totalmente prolisso che non mi ricordo più nemmeno gli orologi che hai presentato vabbè il primo citizen era uno proprio 42 mm poi il caso del quarzo per andare al mare che si può dimenticare tranquillamente il 6x5 con il quadrante trasparente e il tisso prx automatico cosa si può dire ah poi anche il promaster full loom lo zenith vintage colori tanta roba ma cambia gli il centurino perché non si può vedere il maglia milanese mettegli un bel centurino di pelle e poi per ultimo c'avevamo questo 6x5 è tutta una collezione veramente entry level che però ha il suo perché ha il suo perché si può migliorare migliorerà c'è vent'anni piano piano ecco io per esempio andrei anzi al mare piuttosto che col caso al quarzo col 6x5 edizione speciale o addirittura andrei al mare te lo dico chiaramente con questo gmt qua della 6x il field watch che hai preso anche se non c'entra niente con il diver i centometri c'è li ha questo io andrei al mare con questo con un orologio che ti piace ti piacciono le dito che ti piace usalo usalo non metterti il caso al quarto da 50 euro perché hai paura di raffinare questi usali usali vabbè prossimo video ciao davide buon anno con questo video voglio presentarti parte della mia collezione di orologi come buon anno iniziamo con i giapponesi partiamo da questo citizen pilot in titanio imbroglione come lo chiami tu con voce bassa perché passiamo a secco questo è molto particolare di importazione nel senso che non è venduto in Italia si chiama secco metronome un quarzo ma la particolarità è essere pensato per i musicisti e quindi poter essere usato come metronomo ganzo o addirittura come diapason perché dai là cavolo che ganzo questo questo secco 5 con il mariano anche questo di importazione mi piaceva sia per la particolarità del quadrante sia per il design chiamiamolo gentiano a bracciale integrato è 34 mm se non erro ma sul mio polso da 16,5 veste bene certo bello quello lì un altro secco per tutti i giorni secco edizione limitata un cocktail presage ispirato quindi ai cocktail che fanno allo star bar di Ginza e questo si chiama a me piaceva per il quadrante è un po' grande perché è 42 mm ma a me piace lo uso spesso è bel quadrante 42 mm bianco picchia sarb 017 cui si come vedi sta ingranando la data sta cambiando la data all'11,5 che metto con un bracciale di Strapcode l'ho preso poco prima che venisse tolto di produzione per la nuova versione quella con ma scusami secondo me questo bracciale della Strapcode è il suo trovo danno per questo modello perché a me non mi sembra che si adatti alla perfezione alla casa vedo un po' troppo a luce la lente magnificatrice che a me mi piace sempre come Alpinist mi piace invece la versione 1958 per questo ho preso questo Seiko edizione limitata Ginza col quadrante che dovrebbe richiamare la pavimentazione del famoso quartiere di Tokyo in cui Seiko ha tuttora il museo poi mi piaceva il suo design un altro Seiko Presage del suo quadrante quindi ho preso questo GMT Presage Sharp Edge secondo me è una linea molto interessante con tutti questi design molto spigolosi che ricordano anche quelli di Gran Seiko e la qualità di questo quadrante anche King Seiko bella tu sei un Seikista praticamente e poi essendo appassionato di diver ho una serie di diver Seiko primo che ho fatto in collezione è stato questo il Samurai Save the Ocean chiamato Great White Shark poi il Turtle versione Paddy semplice bello io poi anche il brevetto Subacqueo proprio della Paddy mi è sempre piaciuto un altro Seiko vai faccelo vedere il Baby Marine Master il Baby Marine Master chiamiamo così sempre una versione Save the Ocean questo mi ha accompagnato anche in un viaggio al Polo Nord mi complimenti bravo sei un viaggiatore l'altro Seiko Capitan Willard in versione limitata per il mercato statunitense ma alcuni sono riusciti ad arrivare in Italia tant'è che l'avevi fatto vedere anche tu in un video da Pasquale e Dominici per rispondere due parole quando si parla di Seiko gli orologi diciamo Diver Entry Level e gli orologi sui 1000 1200 euro possono sembrare magari simili nel design o simili nei materiali ma le finiture anche al tatto se non si vede molto però si sentono che sono diverse qualitativamente diverse secondo me va bene e ultimo ho avuto l'occasione di prendere questo Urbantuna 42 mm che però vestono molto bene grazie al lag to lag estremamente contenuto questo è proprio un tool watch il classico shred e spero di usarlo in estate perché l'ho preso che era già autunno e non ho potuto portarlo a male poi passiamo agli orologi non giapponesi iniziamo con questo Hamilton Air Converter Crono in edizione limitata per Air Zermatt molto particolare il cinturino è di John Coolstrap oh non si è fatto fare bravo altro Hamilton Taki Billo Zero e orologio che non a tutti può piacere ma a me particolare in titanio resistente fino a 100 bar di pressione e al polso di vari attori in vari film tra cui Ultimo Tenet sì particolarissimo mamma mia Hamilton Ventura oh il Ventura al quarzo come richiede anche la storia della referenza bravo ce n'hai gli orologi però Rado Overpoll Overpoll che mi ha colpito per la precisione di marcia e per le finiture del calibro in relazione al prezzo di listino calibro manuale no? eh sì guarda l'olore il Powermatic 80 è una versione manuale Bulgari alluminium crono capisco che il design possa non piacere a tutti ma a me è piaciuto per la sua sportività e la sua sottigliezza è bello sì questo è come se fosse comunque un calibro modulare non lo vorrei cioè è bello il design di Bulgari è particolare no? gli va riconosciuto che gli orologi li sanno fare di design perfettamente ora lì c'è anche il calibro modulare a me non piace questo altri Bulgari piacciono veramente Omega Speedmaster top 1992 e stupendo ce li hai gli orologi però bravo un bel po' Ludo Ranger che so che da molti è contestato ma io lo trovo un orologio che ha un livello di finiture bellissimo che è sportivo ma ammettibile anche sì bello ti devo dire essere sincero che insomma quando è uscito ha un po' colpito no? perché però mi è durata poca poi c'è quella sfera delle ore lì che ha forma fallica che insomma non è che ci piace tanto no? 36912 c'è già l'Explorer che vabbè non è che è la coppia però anche questo qua va a riprendere sembra quasi che Tudor voglia fare ogni orologio che è parente stretto di quello che fa Rolex c'è l'Explorer e noi gli facciamo il Ranger capito anche il nome Tudor Explorer Ranger bello sì bello però evitabile tutto un completo con un movimento che tiene il tempo perfettamente e infatti anche questo è certo bravo bel Ranger DVC Aquatimer questa è una referenza che non so per quale motivo non si vede molto in giro è bello il design che si è ispirato a design che gente ha realizzato per DVC in particolare l'ingegnere è stata prodotta questo qua mi piace tanto e devo dire la verità non l'ho mai preso in considerazione e ora come ora mi viene voglia di prenderlo in considerazione a dire il vero sicuramente però siamo sempre a parlare del neo vintage che insomma vabbè comunque ora mi è venuto in mente che probabilmente Zenith in queste settimane presenterà un diver che a collezione Zenith non ce l'ha il diver e quindi probabilmente uscirà un nuovo diver di Zenith e sarei curioso di vedere com'è mi è venuto in mente perché avevo comprato lo Zenith il diver elite dei primi anni 2000 e quindi anche questo qua potrebbe essere di quel periodo lì poi io non ce la faccio a tenere a usare gli orologi di 20 anni così è Zenith che fa uscire il nuovo il nuovo diver quindi sarei curioso di vederlo magari quello da prendere in considerazione se non mi ricordo male fino al 2005 il calibro 28-92 anche questo 2000 metri di profondità però mi piace quasi lo vorrei il mio dress watch gonfia e poi tre orologi a cui sono particolarmente legato perché venivano dai miei nonni questo è Versa Geneve che devo portare insomma a far revisionare a far revisionare questo Lucien Rochard Lucien Rochard Rochard coronografo complicato in oro anche questo design un po' particolare estremamente tipico della Maison Maison Rolex Date eccolo questo che mi ricordo sempre al polso di mio nonno e che mia nonna mi ha regalato per la laurea acquaterra top acquaterra top ho scelto la versione a 42 mm 42 mi piaceva mi piaceva la sua presenza al polso facciamo vedere anche il calibro che è pensato per essere vista faccelo vedere è sempre quello bello ecco 42 però 42 mm l'ultimo but not but not least il pane raione però senza lancetta secondi non si va a cui ho ancora lasciato installato da quest'estate il cinturino in gomma a me non piace ciao davide ti saluto un saluto a tutti gli amici del canale un saluto a tutti gli amici del canale a me non piace gli orologi in generale senza lancetta dei secondi perché non riesco a comprendere dove se sta funzionando o se non sta funzionando cioè sto lì due minuti a guardare se si muove la sfera dei minuti ecco dopo due minuti oh se è mossa sta funzionando l'orologio posso andare con quelli secondi se si blocca per un qualsiasi motivo magari prendi un colpo subito guardi ma funziona ancora o no la lancetta gira si sta funzionando invece con quello lì prendi un colpo dici ma funziona e ti fermi freeze per due minuti così a guardare ah poi funziona finché non si muove vabbè dai comunque un sacco di orologi hai sei parito con una smandrappata di seiko che ho detto questo qua ha solo seiko in collezione poi dopo sono finiti e sono iniziati gli orologi dell'altrove fuori dal Giappone non domestici da Giapponesi e c'è dei belli orologi complimenti perché tutti belli mi ha colpito quell'Ivc acqua timer che io ho sempre snobbato non ho mai preso in considerazione ma come al solito quando poi passano gli orologi sotto gli occhi ti viene la scimietta qua sopra e dici quasi quasi chissà quanto costa costa da tanto poi va fatto revisionare perché se io prendo un orologio del 2004 del 2003 è come ho fatto sempre fatto porti a far revisionare quindi ci vanno altri soldi sopra per quello che io preferisco prendere quelli contemporanei va bene dai prossimo video ciao Davide sono Enrico ciao questo è il secondo video che ti mando nel primo ti mostrei la mia raccolta di orologi fatta fondamentalmente di Giofeche e orologi dimenticabili tutti i orologi che mi hanno regalato negli anni ovviamente mi eri mandato a settembre ma ero ben consapevole del rischio guardiamo cosa c'è qua sul tavolo l'amico qua Enrico dalla Sicilia Fabrizio di Andri a me Fabrizio di Andri un mi piace Django Reinhardt chitarrista lì ma a me quello stile lì un mi piace quello sulla barca là non so cosa sia ma tanto lo vedo già che dalla copertina un mi piace poi l'improbabile banda bardo peggio che peggio musica proprio che io non sopporto non sopporto va bene non sopporto e oggi ti voglio mostrare due nuovi orologi che sono entrati in collezione due vai dunque parto con un entry level che ho acquistato da poco è il mio primo acquisto consapevole ed è un orient tristar degli anni 80 ovviamente di secondo polso o anche terzo quarto a giudicare dai segni di usura con quadrante chocolate è un 36 mm abbastanza piccolino 41 di lag to lag ecco gli orologi orient di un certo periodo quelli un pochino più vecchi si riconoscono dal pulsantino che è sulla cassa c'è la corona più il pulsantino anche il mac o1 l'orient ray 1 avevano tutto questo pulsantino qua che serve per regolare la data il giorno e la data con questa cassa particolare appunto con delle linee abbastanza vintage ormai però devo dire che è veramente bellissimo dei date ha i dot luminescenti al di sotto degli indici applicati in trizio trizio addirittura io cercavo il quadrante tobacco è praticamente introvabile quello ho visto ovviamente nella tua recensione di qualche anno fa è diventato praticamente introvabile mi sono imbattuto in questo chocolate l'ho comprato in maniera abbastanza impulsiva ma devo dire che ha dei riflessi stupendi soprattutto al sole ma si è carino da devo dire che fa la sua figura abbastanza elegantino tutto sommato beh è un entry level però mi piace olio calibre in house in house come ti dicevo è il primo acquisto consapevole non voglio partire con chissà che acquistoni per cui mi piace molto come prima scelta pienamente soddisfatto bravo e ovviamente questo orologio fa il suo andiamo avanti però dai passiamo avanti il secondo pezzo che ti mostro è un login in particolare in particolare si tratta di un login admiral five stars crono acciaio oro referenza l3 601.5 risale alla fine degli anni 90 lo acquistò mio padre da un amico orologiaio che credo non riuscisse a liberarsene convince mio padre a comprarlo mio padre non è un appassionato di orologi l'ha utilizzato molto in passato poi tenuto praticamente in cassetta per tanto tempo ovviamente negli ultimi anni non camminava molto bene considerando che ha quasi 30 anni di vita ha mai fatto una revisione per cui essendomi appassionato un po' il mondo dell'orologeria negli ultimi anni l'ho preso l'ho portato a fare revisione è stato mandato direttamente in casa madre hanno fatto un grosso lavoro che è stato anche abbastanza costoso però secondo me insomma valeva la pena in particolare come dicevo appunto è in acciaio oro ha un calibro modulare cronografico l685.2 che deriva dall'eta da quello che so dall'eta 2892 al quale viene applicato appunto il modulo cronografico si può vedere che è modulare dal punto al disallineamento dei tasti cronografici da quello della corona ti mostro la corona in oro originale logata a longin la lunetta ovviamente in oro il bracciale è originale con anche qui il suo bel loghino longin e questo è il fondello con il suo bel marchio fondello a vite chiaramente il vetro zaffiro si ma che è modulare lo si vede anche dal datario ora voi fate caso quanto distante è il disco data dal quadrante è molto distante tanto che ci hanno messo anche una lente magnificatrice per tirarlo fuori perché perché il modulo solo tempo dove dove c'è il disco datario è verso il basso verso il fondello mentre sopra verso il quadrante c'è il modulo cronografico quindi la data è lontana è lontana dal quadrante una cosa che mi piace molto di questo orologio è che la lente magnificatrice della data si trova incassata nel quadrante non nel vetro come spesso siamo abituati a vedere e quello è un motivo vedrai che è uno dei motivi principali proprio perché siccome è distante il datario il disco data dal quadrante per ovviare a questa cosa che è antiestetica hanno pensato bene di metterlo subito perché se te lo metti sul vetro la lente magnificatrice è lontanissima viene fuori sfocata distorta quindi il vetro risulta liscio per quanto riguarda i subcontatori abbiamo la secondina a ore 12 i minuti cronografici ad ore 9 e le ore appunto ad ore 6 che dire è un orologio che a me piace veramente tanto è abbastanza massiccio per carità si fa vedere al polso però ha un suo fascino credo che non abbia avuto un grande successo al tempo non mi sembra un granché però tutto sommato è un bel orologio è un bel crono lo metto nelle occasioni chiaramente non tutti i giorni magari nelle occasioni un po' più eleganti seppur è anche abbastanza sportivo nelle linee quindi questi erano i due orologi che volevo mostrarti oggi spero che ti piacciano spero di aver recuperato un po' rispetto all'altra volta e chiudo con una domanda fra qualche mese mi piacerebbe passare diciamo un acquisto un po' più importante in particolare mi piacciono molto i King Seiko mi piacerebbe un King Seiko però d'altro canto con qualcosa in più si potrebbe anche arrivare a un Gran Seiko in particolare mi piacciono quelli della linea Heritage che hanno delle linee magari un po' più morbide rispetto al King Seiko devo dire che dal punto di vista estetico mi piace di più il King seppur dico il Gran Seiko è pure un orologio che è molto bello volevo chiederti appunto cosa ne pensi e se diciamo la qualità del King Seiko è effettivamente inferiore di quanto inferiore a un Gran Seiko che può essere appunto quello della linea Heritage pur restando il fatto che dal punto di vista estetico probabilmente mi piace di più il King Seiko ti ringrazio continuo così un saluto a tutti gli amici del canale un salutone un salutone ti sei risposto da solo esteticamente ti piace più il King Seiko beh è quello che devi prendere costa anche meno ora ci sono delle grandi belle differenze non è che stiamo parlando di cioè fanno parte del Gran Seiko King Seiko è produzione industriale sono fatti bene sono mi piacciono anch'io sceglierei un King Seiko però il Gran Seiko sono quasi artigianali hanno delle finiture dei tocchi sopraffini hai capito per non parlare del calibro che è tutta un'altra roba rispetto a quello del King Seiko che fa parte proprio della fa parte della fascia medio-bassa però costa un pochino anche lì il prezzo però è completamente differente tra Gran Seiko e King Seiko quindi tutte le indicazioni tutti gli indizi portano a Gran Seiko bello bellissimo pregiato raffinato calibro in house esclusivo e poi io sceglierei il King Seiko alla fine io come te a me piace di più il King Seiko non è che piace di più però visto che siamo lì è differente no è proprio differente come concezione tutto spigoloso con le superfici che si intersecano sono compatti King Seiko piace più King Seiko a me piace più King Seiko e prendi King Seiko cioè non è che devi per forza prendere Gran Seiko perché ti devi sentire a quel livello lì no ho preso il Gran Seiko perché almeno nessuno mi può dire niente c'ho un Gran Seiko no se ti piace più il King Seiko prendi il King Seiko e funziona così l'estetica è l'estetica va bene tutto quello che c'è intorno ma poi ti è piacere l'orologio boh ragazzi mi sembra di aver detto tutto dai io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video il video il presentatore gli occhiali del presentatore e l'orologio del giorno del presentatore e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love love